Sì, abbiamo presentato questa iniziativa nel cinquecentesimo della pubblicazione dell'Orlando Furioso. La nostra terra è una terra che ha ospitato Ludovico Ariosto dal 1522 al 1525 e per 400 anni è stata nel Ducato Estense. Quindi abbiamo una storia. Sono iniziative che dialogano nel contesto internazionale e nazionale, hanno il patrocinio del Comitato Nazionale, dialogano naturalmente con Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Ma hanno una loro peculiarità, delle loro caratteristiche. In modo particolare abbiamo coinvolto i comics di Lucca in una sfida molto interessante, che è una sfida fumettistica dell'Orlando Furioso, che ha già avuto dei riscontri molto importanti fra i giovani. E poi abbiamo coinvolto il pittore Antonio Possenti, che si cimenterà anche lui sull'Orlando Furioso. Questa mostra la faremo quest'estate, naturalmente, alla fortezza di Monte Alfonso a Castelnuovo Garfagnano.